Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Parliamo di una tipologia di borsa perfetta perché vi permetterà di realizzare qualcosa di unico alla moda, animalier, ma anche di scatenare la vostra creatività grazie all'uncinetto e ai filati Tessiland. Analizziamo insieme nel dettaglio il set Mursi. Il set Mursi è composto da cinque pezzi, vale a dire due laterali, una tracolla e poi questa fascia che in realtà è composta da due pezzi, eccoli qui, che poi potrete praticamente inserire, lo vedremo poi successivamente nel dettaglio, anzi analizziamoli pezzo per pezzo. Questi sono i due laterali che misurano 17,5 x 8 cm, dotati di questi robusti anelli rivettati che garantiscono sicuramente resistenza e sicurezza, ed hanno poi i fori lungo tutto il perimetro che hanno un diametro di circa 0,4 cm. Passiamo alla tracolla, eccola qui, larga circa 2 cm ed è estendibile fino a 130 cm, dotata di moschettoni, anche questi in dettagli argento, come tutti gli altri dettagli presenti proprio su questo set. Queste due fasce che misurano 25 x 8 cm, anche queste dotate di fori lungo il perimetro del diametro di circa 0,4 cm e soprattutto dotati di questo moschettone che serve appunto proprio per chiudere la borsa. L'effetto infatti diciamo finale è più o meno questo, quindi con questa pratica chiusura a moschettone che serve proprio per realizzare la vostra borsa. Il set che abbiamo visionato finora è la variante Braun, ma adesso vediamo insieme tutte le altre varianti di colore disponibili per il set borsa Mursi. Questo effetto leopardato è un effetto che sicuramente all'interno del vostro guardaroba non può mancare o se lo avete già sicuramente può arricchirlo. Disponibile in quattro varianti di colore, da abbinare perfettamente ai nostri filati Tessiland, che sia il tie sublime o che sia il tie sublime Luxe, che con il suo lurex argentato richiama perfettamente i dettagli argento del set Mursi. O da impreziosire anche con ciondoli e pendenti presenti sul nostro sito Tessiland nella categoria dedicata ai bijoux. Un set che vi consentirà di realizzare una borsa di medie dimensioni. A tracolle questo aggiunge sicuramente una nota in più sotto il punto di vista pratico. Un design versatile e un materiale di qualità come quello made in Italy rende questa borsa perfetta sia per il giorno sia per la sera. Un accessorio quindi che non si adatterà alla vostra vita ma bensì l'arricchirà. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social vale a dire Instagram, Pinterest, YouTube e TikTok e ovviamente Facebook di leggere i nostri articoli del blog e noi ci vediamo al prossimo articolo di Tessiland News. Ciao!